che aria fresca quasi fredda ma se fino a stamattina parlavi del caldo torrido e ma non avete sentito il crollo della temperatura con questi continui sbalzi la temperatura va su e giù sole caldo fresco a fa umidità siccità temporali ci fanno credere che sia solo una questione esterna invece non è così il corpo è messo a dura prova con cali immunitari stanchezza irritabilità mal di testa insonnia per non parlare dei raffreddori e dei mal di gola estivi spesso chi sente il tempo è considerato un malato immaginario invece esistono sindrome specifiche sindrome da scirocco già nota ai latini provoca cefalea stanchezza insonnia palpitazioni e dolore toracico sindrome da mancanza di luce quando il cielo resta coperto perché piove molto abbassa la melatonina porta insonnia e agitazione la pressione periferica dei capilari si riduce e così anche il trasporto di ossigeno uguale stanchezza sindrome legata all'umidità porta stanchezza e male dappertutto perché stimola i recettori dolorifici e aumenta la percezione del dolore forte umidità o variazioni di temperatura troppo veloci producono un super lavoro per il corpo e un malessere generalizzato l'importante è non convincersi di soffrire di ansia o depressione questi sono problemi fisici non psicologici ma esiste un rimedio per gli sbalzi di temperatura una pillola anche naturale certo c'è la pillola dello stile di vita sano funziona benissimo contiene questi principi attivi dieta equilibrata senza eccessi acqua in abbondanza per idratarsi bene attività fisica almeno 20 minuti al giorno succhi e centrifugati di verdura sempre e meno di frutta se c'è molto umido sole con moderazione per non stressare il corpo un po di relax o meditazione ogni giorno anche le penichelle vanno bene abbigliamento secondo la temperatura non la data questa è la migliore strategia non solo contro gli sbalzi climatici ma per stare bene tutto l'anno se ami anche tu la salute naturale metti un bel mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao Ciao!